Mi strucco utilizzando su una parte del viso l'acqua micellare mentre invece sull'altra parte il burro struccante Ne metto un po' su un dischetto in tessuto e inizio a struccarmi Utilizzando l'acqua micellare e il dischetto andiamo ad effettuare uno sfregamento sul viso che potrebbe risultare davvero molto aggressivo e creare delle irritazioni Inoltre come vedete per rimuovere il makeup non ci sto mettendo poco Anzi guardate quanti residui di trucco stanno rimanendo Ora passiamo al burro struccante e inizio a massaggiarlo sul viso Come vedete il makeup si scioglie molto più facilmente Ovviamente poi dovrete risciacquare e applicare un detergente schimogeno per rimuovere i residui di detergente oleoso e per ripulire la pelle ancora più in profondità Ora rimuovo i residui di burro struccante con il dischetto E questa è la differenza tra una parte del viso e l'altra